amici di youtube buonasera dal vostro lino juventus apro questo video dicendo ragazzi 1400 volte grazie a tutti quanti voi oggi siamo arrivati al traguardo di 1400 iscritti un traguardo per me molto importante anche se come numeri non è che siamo così diciamo ad altissimi livelli perché calcolando che io fa più o meno un anno e mezzo che sto su tubo più o meno non ricordo preciso quando mi sono iscritto dovrei avere qualche iscritto in più però ragazzi vi dico la verità tanti si sono messi dopo di me sul tubo che sono arrivati chi ha 3.000 che ha 4.000 iscritti chi si è messo pure dopo di me e ha i stessi miei iscritti però c'è una piccola differenza io non arriverò mai ai 50.000 60.000 iscritti per il semplice fatto che io sono quello che sono dico le cose come stanno dico la verità e non riesco ad essere leccaculo oppure a fare il lecchino delle altre squadre e di tanti altri di tanti altri discorsi io non devo piacere alla gente io devo piacere prima a me stesso poi che la gente mi segue a me sai cosa dico io ho 1.400 iscritti però posso dire che ho 1.400 fedeli perché voi siete i miei fedelissimi però che io devo avere 7.000 8.000 10.000 12.000 50.000 30.000 iscritti e su 30.000 solo 1.000 condividono quello che dicono gli altri stanno per vedere il mio show sinceramente io preferisco avermene pochi quelli che sono però me li tengo belli stretti stretti io ripeto come ho detto prima io non arriverò mai ad altissimi numeri perché ho capito che sul tubo per andare avanti devi leccare il culo devi parlare male sempre della tua squadra perché tu così attiri i tifosi delle altre squadre ma purtroppo questo da parte mia non riuscirà mai io quest'anno ho lanciato delle critiche alla Juventus perché è una Juventus che va criticata non possiamo dire che è una stagione positiva e tant'altro però come vedete io non mi metto qui a fare i video contro Ronaldo i video contro Buffon perché per me sono persone che meritano il rispetto sono campioni sono fuori classe che vanno rispettati quindi ieri oggi ho messo uno stato su instagram dove dice uno che facendo gol in tre anni può essere tutto tranne che un problema però qui ho notato che i giovani youtuber fa gola parlare male di Ronaldo chiamarlo bastardo pezzo di merda cesso attira i clienti quindi fate voi la strada sul tubo io fortunatamente ho una vita lavorativa come vedete sono in macchina perché lavoro la notte e tant'altro quindi non ho nessun tipo di problema a vivere io non vivo con youtube io youtube vivo di passione vivo di emozioni vivo perché mi piace condividere i video con voi ora se oggi sono arrivato al 1400 è perché io sono molto fiero dei miei numeri anche se ripeto dopo quasi due anni di youtube dovrei avere molti più iscritti ma io non li avrò mai proprio per questo perché io sono uno schietto e sincero dico la verità la gente non mi può vedere e non mi segue ma a me non interessa niente io non vivo con youtube scusate sono un po' raffreddato ma no per il covid state tranquilli perché purtroppo questo è un periodo che sono allergico a polline ero un bel coglione antistaminico sto sempre di merda questo periodo comunque dicevo io rimango quello che sono mi tengo stretto i miei 1400 iscritti se un domani possiamo arrivare a 1500 arriviamo a 2000 3000 per me è grande motivo d'orgoglio ma ad oggi io non rimango niente se io potessi tornare indietro e dovrei fare qualche video in più per attirare più iscritti assolutamente no rifare i stessi video dire sempre le cose che io ho sempre detto sempre pensato quindi per me esiste solo la juve non sono sportivo non faccio il tifo per gli italiani in europa perché non me ne frega un cazzo perché la mia juve in italia in europa non viene difatta da nessuno quindi io sono quello che sono e sono così quindi mi devo prendere un iscritto due iscritti non me ne frega niente però per me so che quelli iscritti là sono tutte persone sincere e soprattutto vere quindi ragazzi io oggi sono felicissimo per questo traguardo poi se tra di voi avete gli amici in famiglia avete gli juventini mi aiutate a crescere magari di oh vedi che iscrivetevi a sto canale galino insomma un mio amico è bravo a me piacere mi fa però che io devo vivere su youtube assolutamente no quindi ragazzi io vi dico ancora una volta 1400 volte grazie a tutti quanti voi chiedo scusa se a volte non sono obiettivo per alcuni posso sembrare antipatico però una cosa posso garantirvi io sono me stesso e lo sarò sempre un bacio ragazzi fino alla fine non importa dove giochi champions league europa leagues c'è la juve noi saremo sempre qui juve alle juve alle juve alle canteremo sempre forza juve alle non importa dove giochi champions league europa leagues c'è la juve noi saremo sempre qui un bacio ragazzi che sia la juve noi saremo sempre qui un bacio